Sono Castellucci Enrico, responsabile del blocco studentesco qui a Viterbo e insieme ai ragazzi dell'istituto Leonardo da Vinci di Viterbo, l'ITIS, abbiamo iniziato una collaborazione per quanto riguarda l'occupazione che da questa mattina è iniziata. Noi non siamo comparsi come simbolo, come parte politica, ma soltanto come aiuto e appoggio ai ragazzi dell'istituto. Abbiamo aiutato i ragazzi costruendo insieme a loro un programma per far sì che questa occupazione sia costruttiva e non la solita occupazione dove c'è casino, dove ci si ubriaca o roba del genere. Il progetto è iniziato da un po' di tempo a questa parte, all'inizio con una semplice comunicazione insieme agli altri ragazzi con piccole riunioni, dove cerchiamo di trovare dei punti in comune per far sì che questa protesta sia realizzata anche a Viterbo. Il programma è stato svolto questa mattina all'inizio con un semplice cineforum in seguito a un dibattito. Il film era Diaz, abbiamo cercato di mettere in risalto con questo programma un film come questo e comunque fa parte della storia contemporanea italiana. Oltre a questo abbiamo costruito delle altre attività come possono essere la difesa personale, un corso di chitarra, un corso di batteria. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzi di questo istituto, di Leonardo da Vinci, per farsi appunto di responsabilizzare anche questi ragazzi, perché sono parte attiva anche loro dell'occupazione e sono parte attiva soprattutto della protesta, perché ovviamente la protesta deve partire prima di tutto dai ragazzi dell'istituto. Io come esponente e come responsabile del blocco studentesco sono esterna alla scuola, ma comunque io e l'altro responsabile, Diego Caglini, siamo stati sempre pronti e aperti al dialogo con tutte le entità scolastiche che sono all'interno del Viterbese. C'è stata comunque una buona risposta nei nostri confronti e la collaborazione sta continuando, anche per attività future, magari come anche presentazione di libri, o speriamo nel futuro più vicino, di organizzare anche un corteo con data da destinarsi. La collaborazione è iniziata qui a Leonardo da Vinci, ma abbiamo contatti in tutte le scuole del Viterbese, come il classico soprattutto. Cercheremo appunto nel futuro di essere sempre più attivi e collaborativi con tutte le entità scolastiche e soprattutto non esponendo un simbolo come può essere il nostro fulmine cerchiato, ma cercando di essere a fianco degli studenti e per gli studenti, non facendo delle proposte prettamente politiche o di parte politica, perché anche noi del blocco studentesco siamo per gli studenti e a fianco degli studenti. Che se ne dica, siamo sempre aperti al dialogo con tutti, soprattutto con dei ragazzi come qui a Leonardo da Vinci, che sono stati molto bravi nell'organizzazione, affiancati da noi, per costruire anche qui un'occupazione, che da tempo nel Viterbese in generale non succedeva. I tempi appunto non sono dei migliori per quanto riguarda riforme e tagli, ma cercheremo appunto di far sentire anche noi la nostra voce a fianco agli studenti.